Musica Quest'oggi siamo a Livina Longo, siamo venuti a incontrare il sindaco Leandro Grones che ci ha ospitati nel suo ufficio. Buongiorno. Buongiorno e grazie per la visita. In questo periodo naturalmente si inizia già a tracciare qualche bilancio sulla stagione turistica invernale che non si è ancora conclusa ma diciamo che i mesi passati consentono forse già di tracciare un po' una fotografia di quello che è stato quest'anno per il turismo vostro. Sì direi che è stata un'ottima stagione, le premesse non erano certo queste perché a novembre c'era una situazione pandemica che preoccupava molto. Bisogna dire che Dolomiti Superski ha previsto un po' tutte quelle che potevano essere le variabili dei vari decreti che poi si sono puntualmente verificati e quindi l'utente non si è quasi accorto di questa situazione. Quindi il Dolomiti Superski ha svolto veramente un grande lavoro in tal senso. I numeri non li abbiamo ancora definitivi ma credo che a fine stagione siano dei numeri assolutamente positivi per come si prospettava proprio la stagione turistica inizio stagione. Quindi bene insomma abbiamo ripreso l'attività pur con tutti gli accorgimenti che ci sono e che sono dovuti dalle normative sul Covid. Però insomma bene direi, quest'anno non ci si può lamentare. Ecco diciamo che forse si è lavorato un po' di più con gli italiani rispetto al solito in media. Non abbiamo ancora i dati puntuali però devo dire che c'è stato forse afflusso di clientela americana, di clientela inglese, di clientela tedesca, anzi francesi, spagnoli ma anche tante persone dai paesi scandinavi. Ecco non è stato un inverno nevolissimo specie se confrontato con quello dell'anno scorso con dei pro e dei contro ovviamente. Beh scisticamente forse è meglio avere un inverno poco nevoso perché l'inverno nevoso comporta delle chiusure degli impianti, una lavorazione molto più impegnativa delle piste. Quindi ecco l'inverno scistico deve essere un inverno con delle moderate nevicate che coprano almeno, che rendano il Pasan giovernale. Quest'anno ce ne sono tante a dire la verità, meno del previsto insomma. Ecco un inverno molto molto scarno di neve. Cosa che forse vi ha permesso anche di risparmiare qualcosa sui mezzi per lo sgobbero della neve. Abbiamo compensato le spese dell'anno scorso. Però quest'anno insomma, adesso in questo periodo soprattutto ha aumentato il costo del gasolio, ma poi i costi energetici sono aumentati già qualche mese fa. Sono aumentati per i cittadini, sono aumentati per le imprese e ovviamente sono anche aumentati per gli enti locali. Do un dato, generalmente noi spendiamo solo per l'illuminazione pubblica dai 50 ai 60 mila euro all'anno. Quest'anno spenderemo qualcosa più del doppio. E quindi poi si agganciano anche poi le specie di riscaldamento degli edifici. Sì, ovviamente. Il bilancio quest'anno che andremo ad approvare tra un po' dovrà tenere conto naturalmente di questi aumenti che ci sono stati. Che sono aumenti molto molto importanti come tra l'altro per tutti i cittadini. Ecco, aumenti che riguardano anche le materie prime, anche in questo caso da prima diciamo della crisi russo-ucraina. E che rallentano in genere o perlomeno fanno sorgere qualche incognita in più per quanto riguarda i cantieri perché poi i prezzi... Sì, questo è un altro problema. Le imprese si trovano ora in difficoltà all'inizio di una stagione molto impegnativa perché abbiamo tanti cantieri comunali, tanti cantieri vaia. Naturalmente l'aumento del costo delle materie prime ma anche del gasolio comporta per le imprese un sborso che è molto molto importante al quale gioco forza qualcuno dovrà far fronte. Ecco, e quali sono poi i cantieri principali che si stanno impostando o che siete riusciti a svolgere nel territorio in questo... Ma noi abbiamo due grossi cantieri che è uno la strada della Vena e la ristrutturazione della Maglia Castello che poi sarà resa disponibile come centro visitatori proprio del castello di Andraz. E' un lavoro molto importante da oltre 6 milioni di Euro che coinvolge anche Colle e Santa Lucia, il Comune di Vinalongo ne è capofila e lo stiamo ultimando. Dovremmo fare gli ultimi appalti e poi abbiamo un cantiere grosso qui di cui è Rocca Pietro e Comune Capofila in Val dell'Hotel qui a Pieve di Vinalongo, un parcheggio su due piani, un lavoro molto molto difficile. E che però consentirà di dare forse uno spazio anche più ordinato per i turisti che vogliono parcheggiare. Sì, sicuramente, noi abbiamo un parcheggio grosso sotto sul piazzale del Rio Chiesa e poco altro a Pieve di Vinalongo, questo consentirà veramente di avere un numero di parcheggi sufficienti per il capoluogo del Comune. E questo dà lo spunto anche per avere una mobilità un po' più pensata, tra l'altro siete entrati in uno studio sulla viabilità dei passi. Sì, questo è un progetto che si inserisce molto bene in quest'ottica, quindi lasciare le macchine nei fondovalli e poi percorrere i passi e le strade, ma anche frazionali in bicicletta o pieni. Per quanto riguarda la sicurezza delle strade, naturalmente a questo si aggancia il discorso dei cantieri post-vaia, perché lavorare a Livinalongo significa lavorare su versanti con una certa pendenza e c'è il rischio valanghe da valutare e naturalmente bisogna prevenire rischi inutili. Bisogna lavorare bene per il post-vaia. Livinalongo, lo dice già il nome, è un comune che ha pendenza un po' deppertutto, l'unico posto piano che abbiamo è il campo di calcio, insomma è poco altro. Sono stati fatti dei lavori importanti di messa in sicurezza valanghiva, ma anche e soprattutto dei massi, perché vaia, ma anche poi le nevicate del 2019, novembre 2019 e dell'anno scorso, hanno comportato dei danni al patrimonio boschivo che ha una funzione di protezione per noi, quindi da massi e da valanghe, essendo posizionato sopra abitati e sopra le strade, quindi tutti questi interventi messi in sicurezza vanno nella direzione di mettere il comune sia per viabilità, ma anche e soprattutto di garantire una protezione alle case e alle abitazioni. Ecco, questo è il momento in cui ci sono i soldi da diverse fonti, possibilmente diversificate per i comuni, voi tra l'altro siete anche comune di confine, però una partita molto grossa che riguarda di fatto potenzialmente tutti i comuni è il PNRR e qui la critica generale dei sindaci è che bisogna correre per fare i progetti e non sempre è semplice riuscire a agganciare quelle risorse che ci sono. Sì, però tanti soldi come in questo periodo non si sono mai visti, perché stanno spalmando sul territorio veramente tanti tanti milioni. Chiaro, bisogna essere pronti, bisogna essere anche preparati, perché non è facile cogliere tutte le opportunità del PNRR, a volte bisogna anche aggregarsi e non sempre i tempi te lo consentono, perché la burocrazia è quella che è e la capacità di fuoco degli uffici è quella che è, perché il personale è sempre lo stesso, anzi qualche volta anche in diminuzione, però facciamo tutto il possibile per attrarre dei fondi. Noi abbiamo partecipato a un bando per quasi 6 milioni di Euro per realizzare un asilo unido sovracomunale insieme al Comune di Roccapietore e di Colle Santa Lucia, abbiamo fatto in tal senso una convenzione, abbiamo presentato un progetto da 1.600.000 Euro per il recupero di alcuni manufatti storici che abbiamo sul territorio, una segheria ad Ornella, ma anche per fare delle piazzette e dei luoghi di ritrovo nelle varie frazioni del Comune, circa 50.000 Euro per ogni frazione da poter destinare per fare proprio delle piccole aree di ritrovo per i cittadini che stanno sulle frazioni. E quindi c'è il ragionamento comunale, c'è anche quello sovracomunale che a questo punto diventa anche un po' indispensabile? Assolutamente, adesso abbiamo una sfida molto importante che è data da un bando che cuba qualcosa come 4 milioni di Euro a favore del sistema Dolomiti Unesco, però stiamo parlando di 80 comuni sparsi tra 5 province, quindi un comune deve fare capofila per tutto il progetto e certo non sarà facile trovarlo, allora sarà un comune martire, perché mettere insieme e raccogliere tutte le adigioni, le convenzioni con 80 enti, però ci stiamo lavorando, quindi questa è una sfida molto importante che stiamo portando avanti con le altre province e con il coordinamento dell'UNESCO, della fondazione UNESCO, ma anche con l'aiuto della DMO Dolomiti. Poi ci sono anche altre fonti di finanziamento, c'è un piccolo bando da 200 mila Euro per i comuni turistici, per la valorizzazione e la cultura, quindi anche questo ci stiamo lavorando per partecipare. Poi attendiamo gli altri, certo è un lavoro enorme, almeno io sono chiuso praticamente qui in ufficio proprio per seguire con attenzione questi bandi che poi non sono le uniche fonti di finanziamento, ce ne sono altre come i fondi di comuni confine dove stiamo ragionando sulle progettualità d'area vasta, però ce ne sono poi altri, ma le aree interne, insomma un bel da fare. Trovare personale però, le diceva, non è semplicissimo, cioè chi farà il capofila deve avere una bella pianta organica. Fare il capofila è molto impegnativo, lo stiamo facendo noi per alcuni progetti, lo stanno facendo anche altri comuni, non è sempre facile perché la burocrazia, le difficoltà, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, quindi non è semplice, insomma veramente un plauso ai comuni che si prestano per fare da capofila dei progetti sovracomunali che sono importantissimi e forse sono quelli che portano più risorse e più benefici al territorio in termini turistici ma anche di vivibilità per i nostri cittadini. E nella ricerca di personale spesso si fa il bando, non si presentano in moltissimi e poi chi si presenta magari il posto non lo prende nemmeno, cioè il comune montano, questo è un esempio, direi a Aurea per questo, sconta un po' la posizione oppure non c'entra? Ma non c'entra, a volte pensano, non riesco a capire come a volte riescono a concepire determinati bandi, insomma se si vuole destinare delle risorse al territorio montano si devono destinare senza troppi fronzoli perché non abbiamo le strutture e le capacità proprio per far fronte e seguire tutta questa burocrazia per preparare i progetti, le candidature, poi un altro conto poi la realizzazione se l'ente risulta beneficiario di un finanziamento, però già partecipare alla progettualità, al bando è molto complesso. Ma per quanto riguarda invece proprio le assunzioni? Adesso sembra ci siano dei fondi da parte del PNR per assumere personale per gestire proprio questi progetti, però non è facile trovare personale che sia disposto a venire qua, anche se abbiamo degli appartamenti a disposizione quindi questo non sarebbe un problema, ma che sia formato e preparato per gestire dei bandi pubblici che sono molto più complessi di una gestione di un intervento effettuato da un'azienda, da un privato. La burocrazia nel pubblico è sovranea e a volte incomprensibile e bisogna trovare qualcuno che la sappia gestire perché non è semplice. Ci sono comuni che non hanno il vigile per esempio perché non ce l'hanno, non lo trovano, eccetera. Tra un po' saremo anche noi senza vigile perché Giancarlo dopo diversi decenni di servizio va in quescenza e quindi noi rimaniamo senza vigile. Adesso stiamo preparando un bando per un nuovo bilisi, ma prepariamo anche un bando per un nuovo istruttore tecnico e quindi spero che qualcuno partecipi a questi bandi perché poi insomma vivino a lungo e distante ma anche bello sia in istante che in inverno. E soprattutto se uno già vive qui, insomma è anche comodo, no? Invece di dover scendere o salire. Sarebbe il massimo, però è difficile. Vedo un po' cosa succede nei comuni limitrofi. Fanno i bandi per l'assunzione di personale, si presentano veramente in pochi o si presenta qualcuno per avere magari qualche punteggio, essere in una gradatoria per poi impegnare altrove. In questo senso la normativa ci aiuta ben poco. E nel frattempo però, come dire, c'è anche chi decide poi di prendere altre strade professionali, no? Ma sì, quello fa parte un po' della vita. Noi qui per fortuna non abbiamo avuto defezioni in tal senso, però è normale che insomma qualcuno poi intraprenda una strada e poi ne scelga un'altra per i suoi motivi, quindi è normalissimo. Il problema è proprio andare a reperire risorse, trovare delle risorse professionali disponibili a venire in un comune a lavorare, perché il lavoro qui è tanto, bisogna farlo bene, quindi bisogna essere molto preparati e le paghe sono delle paghe da fare, però non sono determinate dall'ente, sono determinate dalle norme sovracomunali. Oltre a quello noi non possiamo andare, perché abbiamo dei limiti delle spese di personale che sono molto ferre. E a volte si scivola in un discorso che è quello delle fusioni, no? Cioè manca la pianta organica, fondiamo i comuni, risparmiamo sul personale, accentriamo i servizi in uno o due punti, fatto il comune, tutti a posto, tutti contenti. Lei come la vede rispetto a questa ottica qui? Io sono un sindaco che non vede di buon occhio le fusioni, leggo, ma sono i fatti che ci dicono questo, ci stanno praticamente stringendo troppo e alcuni comuni devono cedere e gioco forza si devono fondere. Insomma, quindi è un processo continuo e lento di indebolimento delle strutture dei piccoli comuni, che dovrebbero avere un maggiore apporto di spesa di personale, proprio perché la burocrazia è sempre più gravosa per i piccoli enti. E poi va a finire che le risorse anche a livello nazionale vengono impegnate e poi rimangono ferme, ci sono esempi in tutta Italia per le aree interne in tal senso, cioè si rischia poi di non risparmiare davvero, non spendere. Il punto è proprio questo, lo Stato dovrebbe riconoscere un po' più di autonomia in tal senso ai piccoli comuni, molto di più di quella che già fa in maniera molto leggera dei comuni che hanno delle maggiori entrate possono assumere in guanmisura del personale, però noi non possiamo caricare tasse ai cittadini per assumere il personale, deve dirci lo Stato, potete aumentare la vostra pianta organica di un X percentuale, per… tanto è un problema vostro quello della spesa e quindi degli stipendi al personale. Questo non avviene, quindi siamo sempre qui ad aggrapparci su ogni decreto, su ogni atto che fa il governo che ci permette di aumentare qualcosa. Grazie mille quindi per averci accolti, grazie a voi e quindi ci vediamo alla prossima tappa.